Il 2017 è stato per Caritas Ticino l'anno del 75esimo, anniversario che abbiamo voluto celebrare tra storia e bellezza, in particolare il 23 settembre alla chiesa di San Nicolao a Giornico, una chiesa storica che presenta delle bellezze che abbiamo voluto associare alla nostra storia, storia fatta di persone, di volte che hanno costruito la nostra organizzazione in questi 75 anni, dal 1942 ad oggi. E l'abbiamo fatto anche con la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vescovo Valerio, il quale ha voluto sottolineare in questa storia le radici profonde nella nostra diocesi, nella nostra realtà ticinese e ha parlato di semi, di semi gettato 75 anni fa dal Vescovo Angelo Ielmini, che ha potuto costruire con dei volontari e in seguito con dei professionisti una storia, una pianta che ha delle radici ben fondate, con dei rami che hanno sviluppato progetti e iniziative durante tutta la sua storia. 75 anni di Caritas Ticino. Si può dividere la storia di Caritas in alcuni grandi periodi. Naturalmente il primo è quello della sua nascita. Praticamente nel 1942 nasce la nostra Caritas diocesana, dovuta alla Seconda Guerra Mondiale. Il ruolo di Monsignor Ielmini è stato sicuramente importante. Dopo un anno di esistenza di Caritas inizia subito una forte emergenza ai rifugiati. Si forma un comitato ticinese per l'aiuto ai rifugiati. Caritas prende subito la segreteria di questo comitato. Poi alla fine della guerra, tra il 1944, poi ancora il 1945, il 1946, ancora un po' del 1947, vi è un importantissimo aiuto alle popolazioni del nord Italia. Dopo un secondo periodo è il ritorno alla normalità, diciamo, quindi gli anni 50. Il nuovo direttore è Don Cortella, che rimarrà fino al 1980. È un periodo un po' difficile per Caritas, nel senso che i mezzi sono veramente molto, molto scarsi. Nel 59 praticamente c'è una prima assistente sociale in Caritas e quindi Caritas diventa un servizio sociale polivalente. Allarga il suo raggio di azione, si costituisce il DOS, il Dipartimento delle Opere Sociali. Quindi il cantone comincia a elaborare il suo modello di stato sociale. Naturalmente si può dire però in ritardo e quindi con una certa urgenza. Quindi nel giro di non tanti anni il cantone elabora tutta una serie di leggi sulla maternità, sui giovani, sull'assistenza sociale, sugli anziani, eccetera. Tra l'altro anche con la collaborazione di Caritas, che già da tempo era presente un po' in questi ambiti. Dalla metà degli anni 70 fino all'inizio degli anni 90, poi c'è un altro periodo in cui si ricercano proprio questi nuovi compiti, il personale aumenta. Nel frattempo di nuovo cambiano gli scenari sociali e economici di questa particolare congiuntura storica. Nella seconda parte degli anni 70, in questo contesto nuovo di migrazioni internazionali, diventa importante il servizio ai rifugiati. Vi sono vari gruppi di persone, dal Cile, dall'Ungheria, prima ancora. E poi nel 79, questa importante accoglienza dei rifugiati vietnamiti, era l'epoca dei Butte People, queste persone scappavano dalla dittatura comunista. E Caritas mette in piedi un'accoglienza molto importante, con molti volontari, e quindi proprio un servizio di una comunità che accoglie queste persone. Caritas nasce per rispondere a bisogni immediati della gente, in un momento in cui lo Stato è ancora pochissimo presente nella socialità. E lo Stato inizia a essere presente a partire dalla fine degli anni 50, e Caritas mantiene comunque un suo sguardo particolare che non si identificherà mai completamente nel giusto e doveroso sviluppo dello Stato sociale, ma avrà sempre più un occhio sull'aspetto umano, sull'incontro delle persone, nei suoi bisogni e nel tentativo di utilizzare anche le risorse degli uomini nel limite del possibile. Ecco, questo porterà poi a un ulteriore sviluppo, a partire poi dagli anni 90, quando Caritas abbandonerà del tutto un modello di tipo assistenziale per passare a un'attività di tipo imprenditoriale, basata sulle attività che riescono a generare lavoro, generare guadagno, eccetera, quindi pur mantenendo sempre l'aspetto dell'importanza del contatto con le persone e quindi di questa sottolineatura tipicamente cristiana dell'aiutare l'uomo nel suo bisogno, ma anche e soprattutto nelle sue risorse. La storia di Caritas Ticino dagli anni 90 è segnata da un cambiamento profondo, un cambiamento profondo a più livelli. Si tratta del passaggio di una storica o piccola organizzazione caritativa ticinese a un'organizzazione di dimensioni decisamente più ampie, con pretese anche più grandi dal punto di vista dell'intervento sociale e che diventa impresa sociale. Ma cosa è successo? Beh, è successo che il Vescovo Eugenio Corecco ha avuto alcune intuizioni, pur non essendo un uomo che si occupava primariamente di socialità, perché era uno specialista di diritto canonico, ma nel sociale ha avuto alcune intuizioni che ci hanno cambiato completamente. Io dico la vita, spesso dico la mia vita, ma la vita certamente dell'organizzazione Caritas Ticino. Credo almeno su due piani il cambiamento è stato veramente profondissimo. Il primo, forse il più importante, è stato quello di cambiare la dinamica e la logica dell'approccio della persona indigente. Il Vescovo Corecco ci ha sostanzialmente detto, ed è ciò che noi abbiamo messo su questo gigantesco tabellone del catishop di Pregassona, che bisognava guardare alla persona non a partire dal suo bisogno come punto nodale, centrale, ma a partire dalle sue risorse. Questo è stato un cambiamento, ma veramente epocale e straordinario, perché ha voluto dire che immediatamente guardavamo alle persone come portatrici di risorse, come persone che avevano delle possibilità e non invece, come normalmente le si guarda, come persone che hanno dei guai, che hanno delle difficoltà. Il secondo piano è quello della comunicazione. Il Vescovo Corecco, beh, lui voleva che noi facessimo una radio. Poi di fatto la radio non l'abbiamo fatta, ma abbiamo fatto la televisione. Quest'uomo aveva capito che se da una parte bisognava essere presenti sul terreno, attivi e testimoniare concretamente un impegno sociale, dall'altra bisognava essere capaci di promuovere delle idee, di raccontare alla gente che cosa stava dietro un'azione sociale, e quindi che cosa era ciò che motivava il modo poi di tradurre in pratica quello che è il messaggio evangelico della carità. Questi cambiamenti si sono intrecciati in una serie di trasformazioni profonde, per cui Carità Sticino è poi diventata un'impresa, un'impresa sociale, che ha guardato, per esempio sviluppando i programmi occupazionali per lottare contro la disoccupazione, ha guardato la persona, in questo caso disoccupata, come una persona capace di realizzare. Ma poi nel corso degli anni abbiamo incontrato degli economisti che ci hanno in fondo aiutato a pensare questa trasformazione di Carità Sticino. Penso a Muhammad Yunus, quello che è conosciuto come il banchiere dei poveri. Per noi è stato estremamente interessante, per il fatto che è stato uno dei primi a mettere l'attenzione sulla potenzialità delle persone più povere all'interno di un mercato. Quindi non tanto la filantropia, l'attenzione al povero, ma riconoscere che questa persona povera ha una potenzialità all'interno del mercato che va utilizzata, che va sviluppata. Ma poi persone come Amartya Senz che hanno teorizzato tutto il discorso sulle risorse e poi C.K. Pralat che ha teorizzato la piramide della povertà dicendo che in fondo il mercato più grande al mondo è quello dei poveri e su questo ha costruito tutta un'ipotesi di lavoro che permette di far entrare nel mercato anche le persone che hanno pochissima disponibilità finanziaria. Tutto questo ha permesso nel corso degli ultimi decenni questa profonda trasformazione di Caritas che spesso non è capita perché, intendiamoci bene, questo discorso delle risorse e quindi di un lavoro sociale non incentrato sull'indigenza, sulla penuria, sulla mancanza non piace a molti non piace in area cattolica soprattutto non piace in area protestante dove invece si sviluppa molto un discorso di filantropia e evidentemente invece lo si capisce perfettamente in ambienti economici ecco perché paradossalmente in ambienti economici non si fa nessuna fatica a far capire questo discorso che Caritas Ticino sta facendo da parecchi anni fondamentalmente coniugando socialità ed economia. Caritas Ticino è nata dalla volontà di un vescovo e quindi era il braccio ed è il braccio della carità della diocesi. Il servizio sociale è il cuore di Caritas Ticino almeno dal punto di vista storico ed è un servizio che si è trasformato nel tempo andando incontro alla realtà così come si è complessificata nel corso degli anni. Oggi il servizio sociale è professionale, non è più solo di volontari ed è in grado di seguire le persone nella loro quotidianità e nella difficoltà che hanno di misurarsi con le istituzioni. Il problema non è soprattutto materiale oggi perché esiste uno stato sociale forte ma è la possibilità di attingere a tutte le risorse disponibili e anche e soprattutto a quelle della persona che la persona forse nemmeno conosce. Gli strumenti cambiano ma la filosofia resta sempre la stessa cioè accogliere la persona, metterla al centro della sua storia e del nostro rapporto con lei e con essa costruire un futuro più vivibile e più dignitoso. In fondo la trasformazione negli ultimi decenni di Caritas Ticino la si potrebbe anche dire così si è capito che l'impegno sociale quindi per esempio l'impegno del servizio sociale deve andare di pari passo con l'economia cioè economia e socialità si possono coniugare si devono coniugare molto spesso si è considerato che da una parte c'era il pensiero sociale quindi l'attenzione ai bisogni e dall'altra parte c'era la produzione di ricchezza. Io credo che la grande soluzione che abbiamo intravvisto grazie a tutti quelli che hanno contribuito all'evoluzione del nostro pensiero è stata proprio quella che ci ha portato a capire che dalla povertà si esce solo diventando soggetti economici produttivi. Il 2017 è stato anche anno di cambiamenti alla direzione, alla presidenza e di nuovi progetti, penso ad esempio all'allargamento alle collaborazioni con le parrocchie penso ai progetti nell'ambito dei richiedenti asilo e le nuove iniziative all'interno della Green Economy progetti che da anni portiamo avanti soprattutto nei programmi occupazionali e in modo particolare con il Cati Eco Fono Term che è un pannello derivante da lo scarto che abbiamo nella lavorazione del tessile e che non va più a finire nell'inceneritore ma viene utilizzato nell'edilizia oppure con il nuovo progetto Cati Unicum che vuole recuperare anche qui tutto quello che va allo scarto per costruire oggetti unici da vendere nei nostri Cati Shop. Caritas Ticino nella sua storia ha sempre affrontato i bisogni del territorio e dagli anni 80 evidentemente in Ticino e Svizzera in Europa tutta il tema del lavoro è sempre stato centrale e quindi la risposta fu ai tempi la partecipazione ai neonati programmi occupazionali e negli ultimi 30 anni questi sono diventati una delle colonne portanti del lavoro che Caritas Ticino tutti i giorni compie programmi occupazionali che per noi sono attività vere e proprie perché incarniamo, interpretiamo l'attività dei programmi occupazionali come impresa sociale che in qualche modo risponde a un'istanza quella di creare attività che non siano concorrenziali con il mercato ma dall'altra attività che abbiano caratteristiche interessanti da un punto di vista economico, ecologico e inevitabilmente solidale perché in ultima analisi tutto questo diventa strumento per l'integrazione delle persone che attraverso i nostri programmi possono approcciare un modo di fare impresa un modo di vivere il lavoro diverso come possiamo rappresentare in modo emblematico le attività che facciamo tutti i giorni? questo è un pannello per l'edilizia isolante, nato dall'attività di recupero del tessile per cui un'ultima frazione andava in discarica e questo è l'utilizzo che ne facciamo ci piace pensare che questo possa essere in qualche modo il lancio per il 2018 un'idea nella quale si possa mettere dentro energia innovazione, capacità, risorse, fatica, lavoro e quindi per noi il 2018 è un anno che di nuovo ci rilancia dentro la nostra quotidianità e soprattutto nella relazione con le persone che tutti i giorni abitano questi luoghi uno dei nostri sforzi è infatti quello in una nicchia di mercato di attività di riciclaggio riuscire a costruire, a mettere a disposizione dei posti di lavoro per persone che sono in disoccupazione in assistenza, uno sguardo diverso da quello che va oggi per la maggiore e che permette anche a Cari Tasticino di autofinanziarsi attraverso le attività produttive senza proporre delle collette Cari Tasticino ha sempre ritenuto di fondamentale importanza riuscire a dare ragione di quello che fa quindi non soltanto il fare ma il fare perché il fare in funzione di che cosa da dove viene questo nostro impegno che in ultima analisi viene dalla dottrina sociale della Chiesa oltre alla rivista c'è anche la trasmissione televisiva che vengono utilizzate per fare un'opera di riflessione o di sensibilizzazione per esempio per quanto mi riguarda personalmente abbiamo ritenuto importante portare avanti un lavoro di riflessione costante anche pubblica sul tema delle migrazioni proprio per non essere sotto la pressione dell'emergenza della prima impressione emotiva in un senso o nell'altro ma cercare di inquadrare tutto questo in un contesto in una riflessione più ampia in questo senso Cari Tasticino fa politica nel senso più ampio del termine nel senso più nobile e non partitica una politica che è attenzione alla realtà in cui viviamo attenzione alla persona ma tutto questo lo troviamo anche nella dottrina sociale della Chiesa e penso in particolare all'enciclica Caritas in Veritate di Papa Benedetto XVI a cui abbiamo dedicato 102 puntate del pensiero economico o anche alla laudato sì di Papa Francesco dove mette in evidenza il valore dell'economia delle produzioni se questa porta alla creazione di posti di lavoro per un'economia del bene comune e la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo l'ultimo progetto nato nel 2017 è il Cati Outlet di Balerna un negozio che si affianca all'attività industriale del riciclaggio indumenti usati di Rancate che vuole contribuire a quel discorso di impresa sociale per aumentare le probabilità di costruzione di posti di lavoro Balerna è un nuovo negozio ha un nuovo look ed è una nuova possibilità anche per interagire con la parrocchia che ci ospita L'impegno mediatico di Caritas Ticino soprattutto la produzione elettronica può sembrare smisurata magari un pochino lo è anche ma certamente si è sviluppata un'idea molto precisa che è quella che non è possibile portare avanti un impegno sociale senza portare avanti delle idee delle idee che devono svilupparsi che devono essere capite e magari che sono complicate, complesse perché nel lavoro di approfondimento che abbiamo fatto in tutti questi anni evidentemente la sfida è stata sempre quella che chiedere una fatica nell'approfondimento è chiedere molto allora la produzione video soprattutto la produzione video che è online addirittura con 1360 video che possono essere visti da tutti su YouTube oppure il fatto che sono 1200 puntate dal Natale del 94 beh tutto questo è per raccontare che cos'è il pensiero che anima tutta questa azione sociale che poi si è sviluppata con i programmi occupazionali con un servizio sociale con un sacco di cose nel corso degli anni e sempre con un'attenzione al territorio per cui si è sempre all'ascolto di quello che potrebbe succedere e che va capito e magari capito a tempo allora la produzione televisiva con tutte le sfaccettature per cui abbiamo fatto cose anche molto complicate cose che danno voci a persone che magari non l'avrebbero a persone che non bucano lo schermo ma che ci raccontano o ci testimoniano cose veramente straordinarie ecco tutto questo è il nostro tentativo di entrare in case magari in case dove non entreremo assolutamente con la nostra rivista o con altri mezzi ma che tramite la televisione su Teleticino o i video su YouTube riusciamo a aprire la porta e a dialogare e a dialogare con persone che molto spesso poi ci ascoltano non necessariamente saranno d'accordo con noi ma comunque ci ascoltano allora questo è il grande pregio di questa possibilità straordinaria che abbiamo voluto sviluppare sviluppare molto attraverso tutta una serie di rubriche come alcune immagini che vediamo ci testimoniano questa basilica ci ricorda tra l'altro anche un'idea molto bella che sta un po' alla base anche della costruzione architettonica cioè un po' il percorso battesimale perché entrando nella basilica inferiore ha un soffitto più basso per cui è pensata proprio con questa entrata quasi nella penombra per arrivare poi alla basilica superiore che è molto più slanciata più luminosa per cui al pellegrino che arriva gli si chiede di fare un po' questo percorso entrando attraverso il portale della basilica inferiore fare questo cammino dalle tenebre alla luce è il ventitresimo anno che Cari Tasticino produce l'emissione televisiva ed è da questi schermi che io vi porto l'augurio di buon Natale di buon inizio anno nuovo da parte di tutte le collaboratrici tutti i collaboratori di Cari Tasticino ed approfitto anche per segnalarvi l'uscita dell'ultimo numero della nostra rivista che ha come tema il Natale e anche dell'ultima nostra produzione il DVD sulle tracce di Francesco e Chiara che abbiamo prodotto proprio ad Assisi approfitto allora per portare a tutti voi gli auguri di un buon e sereno Natale di un miglior nuovo anno da parte di tutte le collaboratrici e collaboratori di Cari Tasticino dei membri dell'Assemblea dei volontari e di tutte le persone di buona volontà che quest'anno si sono messi a servizio della nostra Caritas della nostra diocesi e del nostro territorio grazie a tutti